follower del colorificio fumagali buonasera questa sera voglio parlare della pittura magnetica per muro effetto lavagna c'è una pittura praticamente che vi permette di ricreare sul muro della vostra cucina o delle camerette dei vostri figli una vera e propria lavagna nera o di altri colori può anche essere utile per far sì che voi attacchiate calamite potete scriverci con un gessetto i vostri appunti potete cancellare con un semplice straccio a base di acqua a tossica ecologica fantastica da stendere pennellare direttamente sui vostri muri di casa venite a trovarci colorificio fumagalli zona molotto 44 vado ligure vi aspettiamo buona serata ciao grazie grazie grazie